Non è l'uniforme a dover attirare, ma la gentilezza, la disponibilità, le caratteristiche migliori della persona che la indossa. Lo ha detto Papa Francesco alla Guardia Svizzera Pontificia, ricevuta nell'ambito dei festeggiamenti per le nuove reclute e in ricordo dell'atto eroico del 1527, con il sacrificio nel corso del Sacco di Roma. Con il vostro peculiare servizio, ha detto Papa Francesco, siete chiamati a dare una serena e gioiosa testimonianza cristiana a quanti giungono in Vaticano per visitare la Basilica di San Pietro e per incontrare il Papa. Soprattutto servono spirito di servizio, gentilezza, carità verso pellegrini e turisti, ma anche verso i commilitoni per evitare divisioni ed emarginazioni.